buongiorno e benvenuti nel mio canale oggi vi presento un programma di editing grafico diciamo un'alternativa a photoshop e a gimp che originalmente è stato pensato come una estensione delle funzionalità di paint della microsoft e infatti si chiama paint net ha ricevuto un aggiornamento proprio pochi giorni fa questo programma però può essere installato soltanto su windows su windows 7 e ovviamente successivi c'è una versione nel microsoft store che a pagamento si va sul microsoft store si digita paint net ecco qua e questa versione però vedi che hai a pagamento 6 99 euro questa non ci interessa noi andiamo sulla pagina ufficiale di paint net e installiamo la versione desktop cioè non quella come applicazione di windows ma quella desktop andiamo quindi qui su paint net 4.2.14 per l'installazione prima però vi faccio vedere che qual è la forza di paint net la forza di paint net sono i plug in qui ci sono migliaia di plug in per un sacco di cose io non sto a mostrarvi tutti ma sono veramente migliaia che possono essere installati su paint net per delle singole funzionalità adesso vediamo come installare il paint net come usarlo per come editor eventualmente come installare un singolo plug in per poi magari utilizzarlo allora si va su paint net qua si clicca come vedete ci sono due versioni ovviamente vengono supportati un sacco di linguaggi come vedete la ultima versione è stata rilasciata il 23 ottobre quindi pochissimi giorni fa meno di una settimana fa è sopportato anche l'italiano questa è la versione a pagamento su su windows su microsoft store noi ci interessa ovviamente quella gratuita si va in questo sito mirror in cui è appunto presente paint net per come applicazione desktop poi ci si clicca sopra eccolo qua e qui come vedete c'è il link paint net 4.2.14 free download now si clicca sopra e viene scaricato paint net in formato zip ovviamente come sapete con i formati zip ci si clicca sopra con il destro del mouse si va su estrai tutto questo è supportato soltanto da windows si va su estrai e verrà creata una cartella con paint net al suo interno eccola qua c'è il file exe con cui installare paint net se fanno un doppio clic qui ti dice di non eseguire perché ancora non viene riconosciuto ma vi assicuro che non è pericoloso si va quindi su ulteriori informazioni e si va su esegui chi dice che che tipo di app è l'autore si va su esegui comunque e viene installato per net qui si può scegliere un'installazione rapida va a dire sulla unità c oppure si può scegliere si può scegliere che la lingua come vedete è stata rilevata direttamente a lingua italiana andando su personalizzata si può scegliere il l'unità di come installazione invece dell'unità c ma lasciamo rapida andiamo su avanti si va su accetto avanti ancora e viene installata per net ecco qua finita installazione si va su fine e quindi si lascia la spunta a via paint net per visualizzarlo immediatamente ecco questo è per net magari si può mettere anche tutta pagina per tutto schermo così si capisce meglio vi faccio vedere una semplice come vedete qua ci sono tutti gli strumenti che sono simili a quelli di gimp e di photoshop faccio vedere subito una piccola applicazione da so file apri si sceglie per esempio questa foto adesso vi faccio vedere come si può eliminare per esempio lo sfondo di questa foto con pain net chiaramente questo funziona più o meno come photoshop e con gimp e quindi bisogna andare su livelli aggiungi livello oppure qua giù nel pannello dei livelli e andare qua su aggiungi livello come vedete è aggiunto un livello trasparente e a questo punto possiamo selezionare lo sfondo si seleziona lo sfondo chiaramente il livello dello sfondo e si seleziona si va nel strumento barchetta magica qui la tolleranza è impostata al 50 per cento si clicca su un pixel della parte che vogliamo eliminare ecco qua e qui viene selezionato i pixel che sono adiacenti e vicini come colore a quello selezionato qui però diminuiamo la tolleranza perché come vedete è stato selezionato anche la mano ecco adesso la selezione mi sembra abbastanza buona quindi si può andare su cance e viene eliminato quasi tutto lo sfondo possiamo naturalmente continuare andare su bacchetta magica selezionare questa parte qua sotto e andare su cance poi selezionare quest'altra e andare ancora su cance poi selezionare questa qua in cima andare su cance ovviamente naturalmente possiamo usare anche selezione e togliere questi i masugli che sono qua si può anche aumentare le dimensioni per fare un lavoro più accurato insomma io non sto a fare tutte le cose perfette comunque avete capito che come vedete con questo sistema andiamo su bacchetta magica anche si può solo fare dei lavori di grafica piuttosto di alto livello guardare che risultato andiamo su bacchetta magica selezioniamo qua la tolleranza va bene sul cance eliminiamo anche questo ecco vedete il risultato è ottimo qui si può salvare il risultato c'è un'altra codetta da eliminare ecco fatto cioè su file salva con nome si da chiaramente si sceglie in formato png si da che so trasparente si da un nome di trasparente e si va su salva ok si unisce i livelli automaticamente e questo è il risultato che si può anche andare a vedere come vedete è molto buono e questo per quanto riguarda una delle funzionalità più tipiche di dei programmi di grafica ma adesso vi faccio vedere magari una come installare un plugin e come utilizzarlo a puro titolo di esempio vi faccio vedere come utilizzare questo plugin color replacer per rimpiazzare un colore che un altro ma ce ne sono detto migliaia chiaramente si scordi ci sono anche le istruzioni di come usare il plugin ci va su download qua replace colors si clicca sopra come vedete viene aperto un google drive google drive si clicca qua su scarica questo è un file che è stato caricato sul google drive di qualcuno quindi si va su scarica qua e viene scaricato sempre in formato zip il il plugin a questo punto si va sul download e questo è il plugin destro del mouse estrai tutto estrai e questo è il plugin dentro al plugin praticamente come vedete c'è soltanto un file di in formato dll adesso noi qui dopo aver installato paint net viene mostrata una icona sul desktop ci si clicca sopra con il testo del mouse si va apri per scu percorso file per vedere dove dove è stato posizionato il programma e si come vedete si apre stato messo nella unità c in programmi paint net si va su fx ci si clicca sopra sulla cartella fx questa cartella è vuota si posiziona sulla sinistra si apre poi la cartella di replace color questa qua in cui c'è il file dll si tiene premuto c ctrl e si si sposta qua su fx si è necessario fornire le autorizzazioni di amministratore già su continua e si copia questo dll su replace sulla cartella fx di paint net a questo punto si fa andare paint net e potremmo utilizzare il plugin replace color e adesso vediamo come usare il plugin color replacer si apre una foto file apri scegliamo questa cosa qua adesso non pensate che faccia un capolavoro ma comunque vi faccio vedere come funziona qui bisogna vogliamo cambiare il colore di questo abito che però vedete non ha un colore omogeneo quindi sarà una cosa un po complicata però vi faccio vedere il concetto innanzitutto bisogna scoprire che colore è quindi si va sul tre leva colore che una specie di contagocce di paint net si preleva il colore preleviamo qui colore qui si va su estesa per visualizzare il colore vedete cia il valore di rgb oppure anche valore è la resa decimale adesso noi selezioniamo l'abito da di cui modificare il colore si va sempre sulla bacchetta magica qui si sceglie a selezione normale per adesso quindi si seleziona 4 si clicca su un pixel qui vedete la tolleranza è troppo elevata bisogna diminuirla in modo che poi che selezioni soltanto quello che ci interessa ecco e adesso andiamo su aggiungi aggiungi cioè per aggiungere altre selezioni per esempio selezioniamo qua anche poi selezioniamo qui ecco selezioniamo anche qua selezioniamo che questa manica lasciamo ecco selezioniamo il colletto poi in basso qui anche è più o meno è selezionato di tutti non è selezionata questa manica qua ma ecco lasciamo stare così adesso si va su effetti perché se vi ricordate l'abbiamo messo il plugin sulla cartella fx si va su effetti color e come vedete c'è replace color si apre qui si sceglie questo colore qua che è 229 esatto 238 esatto 255 vedete in affected color si sceglie il colore che noi abbiamo prelevato mentre il new color noi vogliamo cambiare questo colore con un altro scegliamo un colore magari un rosina così qui come vedete viene si vede subito l'anteprima noi facciamo sulla tolleranza per cercare di visualizzare di rosa tutto l'abito più o meno quasi tutto l'abito senza andare oltre però quando siamo soddisfatti ora qui bisognava bisognava fare le odi più in maniera più precisa specialmente qua su questa manica ma chiaramente faccio vedere solo come funziona si va su ok e verrà rimpiazzato il colore precedente che era un quasi un bianco con questo rosina si va su modifica deseleziona e questo vedete abbiamo cambiato il colore di quest'abito ovviamente poi si può salvare poi salva con nome si mette che so da un nome rosa si salva in jpeg si sarà su salva cioè su ok si può impostare la qualità ok non capire originale nuovo insomma non è un capolavoro ma avete visto che ci sono un sacco di plug in che possono essere utilizzati in mille modi e questo è tutto su paint net alla prossima volta